Tutti in classe con il sorriso, con il piacere di rivedersi, dove non è mancato un misto tra gioia e preoccupazione per il rientro in classe, dove pesa comunque la preoccupazione per il virus. Tutti puntuali, tutti con la mascherina, con la voglia di rispettare le regole e di ripartire, orari d'ingresso differenziati su due turni. Così hanno raggiunto le loro scuole gli studenti delle scuole superiori della Campania, chiuse dal 16 ottobre. Nella città di Salerno, tutti in aula questa mattina al 50%, fatta eccezione per il liceo statale Regina Margherita di Salerno, che non ha riaperto per la presenza di un caso positivo al Covid tra il personale in servizio, con le attività didattiche che continueranno quindi a distanza per i prossimi giorni. I primi a rientrare in classe in presenza questa mattina sono stati gli alunni delle prime tre classi che hanno risposto al suono della campanella già alle ore 8, mentre per le quarte e le quinte in linea di massima è stato osservato il turno con orari flessibili dalle 9.30 alle 10.30. Per tutti il primo passaggio è stato quello dinanzi al termoscanner. In tanti hanno raggiunto la scuola accompagnati dai familiari e quindi prediligendo l'utilizzo di auto private. Il timore maggiore infatti per gli studenti è proprio legato al trasporto pubblico. Non siamo ancora tranquilli. Come sei arrivata questa mattina qui a scuola? Mamma mi ha accompagnato. La maggior parte di voi qui arriva in auto o con i mezzi pubblici? No, diciamo che siamo tutti pendolari, quindi la maggior parte ha questo problema per il trasporto. Io stamattina mi sono dovuto organizzare con mamma, mio fratello, quindi è un po' problematico. Ritieni sia una soluzione utile però questa dei doppi ingressi per evitare affollamenti? Diciamo che per gli affollamenti potrebbe essere utile, però rimane il problema dei trasporti. Comunque le corse non sono aumentate, quindi abbiamo sempre questo problema, soprattutto noi che veniamo da lontano. Non mi piace perché purtroppo si va a mettere in questo modo sotto al tappeto la polvere del non aver organizzato un sistema di trasporto pubblico efficiente. Quindi no, non sono affatto d'accordo con questa divisione in fasce perché semplicemente quello che era da fare era potenziare il trasporto pubblico. Gli autobus dalla provincia alla città, la metro e tutto quanto quello lì che insomma fa parte del trasporto pubblico non è stato fatto e la soluzione proposta sono state le fasce orarie, che non sono una soluzione accettabile e definitiva. Come hai raggiunto questa mattina la scuola? A piedi, non si vede, voglio dire. Quindi non sai effettivamente com'è andata la situazione dei trasporti a bordo dei pullman? I miei amici dalla provincia mi hanno detto che non sono soddisfatti di quella lì che è l'organizzazione che comporta l'entrata a quest'ora, che comporta anche l'andare in modo separato dai propri fratelli. I fratelli più piccoli vengono a scuola per esempio con l'autobus della mattina o accompagnati mentre invece loro devono andare con quello di due ore dopo e non è una soluzione definitiva. Grazie a tutti.